Grazie di essere qua in maniera democratica così come noi ci aspettavamo che fosse, il Presidente si aspettava che fosse e quindi il Presidente col quale ci siamo sentiti poco fa, io mi chiamo Filippo, col quale ci siamo sentiti poco fa non ha avuto nessuna difficoltà a confermare quello che peraltro aveva già comunicato agli organizzatori della manifestazione e cioè che la Giunta è assolutamente aperta al dialogo e all'ascolto così come succede con tutti i portatori di interesse e che quindi si era parlato di sabato, sabato ci sarà un incontro nel quale il Movimento esporrà sulla piattaforma che ci ha già anticipato, però esporrà la piattaforma con le motivazioni che hanno portato a questa manifestazione e alle rivendicazioni che ci sono sulle politiche e della Giunta e alle politiche europee, per cui per quanto ci riguarda abbiamo comunicato questo agli organizzatori della manifestazione e ci vedremo sabato per la fase di ascolto che è la cosa più importante. Le parole stiamo ad ascoltare e i fatti seguiranno.